quella oh il coniglietto bravo che coniglione oh la 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 che coniglione grazie 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 questo è un bel coniglio questo è un bel coniglio grazie 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 dice che la carta che mi riempie sempre di gioia sempre 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 di gioia e mi riempie sempre di gioia dici che la carta è uguale al contenuto scoprilo aprilo porca miseria ci vuole la forbice che è là grazie allora io leggo così vediamo cosa c'è da sapere c'è scritto cara nonna luigina io mi chiamo veronica e insieme alla mia mamma cristina ti seguiamo e quando vediamo i tuoi video pensiamo alle nostre nonne che non ci sono più sei un grande esempio per tutti e i tuoi video ci rallegano le giornate oltre a tante golosità troverai dei lavoretti fatti a mano da me e anche qualcosa per davide dimenticavo noi abitiamo in provincia di varese anche noi vicino al lago maggiore e alla svizzera ti mandiamo un grosso abbraccio fai la brava scritto sottolineato fai la brava e soprattutto sorridi sempre a presto da veronica e cristina adesso guardiamo che cosa c'è grazie grazie veronica e cristina c'è già un bel coniglione ma che bello grosso bel coniglietto bello 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 grosso 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 grazie 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 un'altra curiosità della svizzera adesso guardiamo che cos'è che cos'è che cosa c'è della svizzera la svizzera non sono andata a svizzera mai 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 ma ci sono solo le montagne ma ci volano anche le montagne non c'è più ferme neanche le montagne cos'è che c'è dentro quanti bei micetti che ci sono 1 2 3 4 5 micetti grazie 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 cioccolatini mi sa mi sa che è proprio bello guarda sti gattini cioccolatini cioccolatini aspetta che guardiamo da che parte aprire come si fa come si fa come si fa aiuto nel pubblico ma si aiutami va grazie 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 ma li mangerò senz'altro penserò sempre a te grazie 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 se non ne és coloso c'è dentro una sorpresa qui c'è dentro una sorpresa non viene fuori ma guarda che belle caramelle caramelle di frutta grazie, grazie, grazie caramelle di frutta ma grazie, grazie, grazie caramelle di frutta oh la la grazie, grazie guarda, da ogni colore grazie, grazie, grazie ma quante rosse, gialle, verde mamma mia quante grazie, 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 grazie quante caramelle adesso una è scappata per terra ma la prendiamo non la lasciamo mica l'ancio la prendiamo subito una c'è una pausa tecnica nell'apertura di questo pacco c'è una pit stop bisogna assaggiare i cioccolati no, io no dopo dopo? io subito io subito pausa, pausetta ma si va col calmo grazie, grazie, grazie sono proprio buoni io sono una colosura io dali mangi dopo ma io io mangio dopo dai che sono buoni buoni? non ci credo quanti giorni durano? ha contato quanti giorni non ci sono per quanti giorni no ne mangerò due al giorno non di più perché due? uno uno al mattino e uno al pomeriggio si si vale uno al mattino e uno al pomeriggio grazie, 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 grazie e tutte queste belle caramelle grazie, grazie, grazie ma quanti sono i pochettini qui da aprire? oh la la oh la la oh la la qui c'è scritto ebbene sì c'è un'altra golosità direttamente dalla Svizzera attenzione però una tira l'altra attenzione attenzione adesso vediamo subito cosa c'è dentro uno tira l'altra attenzione attenzione che la nonna è golosa attenzione attenzione guarda ma guarda guarda sono tutti guarda qua ma tutto stai mangiando già ma guarda che buoni e viene fuori un profumo sapessi di cioccolato che profumo che profumo mamma è proprio un profumo fuori grazie guarda qui ce n'è da divertirmi qui ce n'è tanti 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 grazie 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 nel sacco ce n'è un sacco piccoli grossi sono non sono tutti uguali ce ne assaggiamo non sono tutti uguali mamma quanti ce n'è un sacco un sacco un sacco non non fammi cadere quest'ora siete troppo troppo bravi troppo 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 bravi troppo gentili uno due tre adesso guardiamo questo qua c'è scritto un dolce risveglio morbido e goloso non potete parlare perché mangiò vai piano vai piano chi va piano va sano e va lontano non c'hai fretta mangia con calma è buono non ho ancora mangiato una cosa mica buona una più buona dell'altra una più buona dell'altra colombina una colombina una colombona qui è non so che cazzo mamma mia guarda che bella colomba grazie 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 è da mangiare o è da guardare no è da mangiare però io sono goloso sai vuoi un bicchiere d'acqua no no è goloso ma che bra dopo non l'apro subito perché tanto scade fra un bel po' e senz'altro senz'altro la mangerò non si sente il profumo ma senz'altro la mangerò senz'altro la mangerò sono la golosona la golosona guardi che cosa sono oh Davide questi qui Davide c'è scritto c'è scritto Davide sono per il Davide sono per il Davide tutti i cioccolati ecco ci volevo grazie per il mio Davide bravo grazie bravo perché meno li guardiamo per più di due secondi cosa è questo qui non ho capito forse si è staccato o forse è da aprire magari c'è scritto c'è dentro lo so fissi che c'è dentro non lo so dopo lo vogliamo questi li teniamo qua aspetta anche forse c'è scritto qua ho visto che c'è un'altra letterina questa è così per nonna l'ugina magari c'è scritto oh guarda che bello oh la la oh la la oh la la oh che bello azzurro con che bei fiori ma guarda qui no c'è scritto che la pasqua del signore illumini il tuo cuore di gioia e felicità buona pasqua mi ha illuminato senz'altro il mio cuore la mia ma vuoi vedere guarda che belli proprio bello è guarda che fiori ma guarda fiori della primavera proprio è primavera aprite le finestre ma che belli ma guarda ma tutti dei colorini belli dei bei colori pieni ma che belli grazie 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 veramente guarda di primavera 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 grazie 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 ma c'è troppa roba c'è troppa roba una curiosità bontà direttamente dalla svizzera sparita anche la forbice adesso non c'è più la forbice l'hai presa te la forbice ah ecco una curiosità una golosità ah cosa sono cosa sono ma guarda che bello sono senz'altro cose da mangiare stupende 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 grazie 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 guarda sono golosi sono cose mi faccio assaggiare tutto a me vedere non posso assaggiare tutto mannaggia perché è della svizzera questa qui è una cosa svizzera è una cosa svizzera si guarda c'è proprio scritto una curiosità bontà direttamente dalla svizzera mi sa che sono cioccolatini questi cioccolatoni dalla svizzera dalla svizzera dalla svizzera si si sono cioccolatoni ma si vede che sono svizzeri vorresti assaggiarne uno no ma vorrei ma come faccio a assaggiare tutto adesso aspetta guarda qui adesso questi questi qui cosa sono perdaide no si perdaide questi questi qui sono perdaide sono perdaide sono perdaide e questo qui per chi sono nonna luigina e davide per tutti e due questi qui qui c'è da giocare senza altro questa qui è una grande sorpresa grazie 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 è una grande sorpresa questa qui è una grande sorpresa c'è da giocare senza giocare si si senza altro senza altro adesso aspetta che apro 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 senza altro vediamo quanti nodi ci sono i nodi non voglio tagliare perché non tagli il polvino ma perché mi spiace c'è la faccia con pazienza c'è la faccia c'è la faccia hai visto non l'ho rotto qui c'è da giocare sicuro c'è un altro ostacolo qui c'è da giocare dobbiamo giocare imparare a giocare guarda c'è il uovo cosa sono guarda che bello questo è un uovo vedi come l'uovo di pasqua anche questo guarda che bello questo qui e questo questo qui guarda il pulcino il pulcino pio pio il pulcino pio 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 ma che belli questo qui è un altro uovo ma che bello pulcino pio pio questo è quello che ha scritto che sicuramente ha fatto a mano ma tutti sono fatto a mano eh fino a questo ma che questo è fatto a mano e questo qui l'ha fatto lui a mano guarda che bello anche questo l'ha fatto a mano senz'altro l'ha fatto a mano senz'altro tutti schizzacchini del gelato del gelato guarda questo e anche questo due due fatti veramente bene grazie 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 ma quanti quanti che ne ha fatto allora no quello là non era da è come questo credo perché si è cucito qua c'è scritto per davide e nonna dobbiamo giocare dobbiamo giocare dobbiamo giocare 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 qui c'è dentro la sorpresa non lo so chiediamo dopo chiedo c'è scritto buona pasqua in inglese buona pasqua buona pasqua buona pasqua buona pasqua buona pasqua anche a te ma guarda quante cosine belle che ci ha mandato quante cosine belle ma quante ma quante grazie 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 guarda c'è anche la coccinella anche la coccinella che porta fortuna ma tutte portano fortuna tutto porta fortuna tutto ma più 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 porta fortuna porta fortuna anche la luna porta fortuna ma questo guarda che sono veramente fatti bene li ha fatti senz'altro con amore e io li tengo con amore ma guarda li mettiamo senz'altro in un posto che si vedono senz'altro grazie 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 ma guarda ma che belli ma che belli ma che belli ma quante cose belle sono felice non contenta sono felice ma mi fate sempre felice mi fate sempre felice perché dolcezza primi dolcezza aprimi dolcezza aprimi dolcezza aprimi apri mi dolcezza mi fate sempre veramente felice io tendo il bambolotto così non si sveglia come siete contenti come siete bravi veramente vi ringrazio con tutto il mio cuore con tutto il mio cuore ma com'è bello scartare 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 mi serve a riuscire a dimmelo no aspetta adesso cerco di capire come si fa senza rompere tanto adesso cerco di capire cerco di capire senza rompere tanto oh se ci fosse il nonno questi qui il nonno li adorava ma anche io li adoro li adoro bisognava sempre tenerceli a casa questi qui ma guarda che bello il cioccolato due cioccolato due due e uno tre oh 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 questi 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 non li conosco questi non li conosco le assaggerò senz'altro queste non le conosco però comunque senz'altro le assaggero grazie 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 sei molto molto gentile ti voglio bene ti voglio bene ti auguro tutto il bene che ti può succedere ma tutto però niente cosa brutta tutte cose belle ti auguro perché voi me ne augurate tante di cose belle queste non le ho mai assaggiate dopo le apriamo e assaggiamo le assaggiamo senz'altro cioccolato cioccolate cioccolate c'è scritto cioccolate grazie 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 vediamo un po' facciamo